Buongiorno, buongiorno Sindaco. Cominciamo subito con le tantissime lettere. Scrive Amedeo Venturini Desidero porre una domanda allontanandosi da quelli che sono soltanto problemi locali. Vorrei chiedere se il signor Sindaco è a conoscenza della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e se ritiene che in Italia sia applicata dopo che è stata approvata e ratificata. Inoltre, e questo è un problema che riguarda il Comune, la legge 328 nel suo articolo 14 è applicata? È concordato e condiviso il progetto individuale di ciascuna persona con disabilità? Mi pare che siano stati inoltrati ricorsi in alcuni comuni per ottenere risposte e azioni concrete. Dunque, intanto la Convenzione dell'ONU è assolutamente conosciuta dal Comune. Voglio ricordare che il primo novembre di quest'anno si è tenuto a Genova un convegno, proprio dedicato alla Convenzione ONU, promosso dalla consulta per l'handicap, che ha la sua sede al Matitone, dove ci sono gli uffici comunali e che lavora in stretto rapporto con gli uffici comunali, un convegno che aveva il patrocinio del Comune, per cui l'amministrazione comunale la questione ne ha conoscenze e la segue. Naturalmente dobbiamo essere proprio sinceri sin in fondo e l'attenzione alle persone con disabilità è un'attenzione che a tempi, per quanto riguarda la pubblica amministrazione nel suo complesso, non alcuni illuminati e sensibili che si sono fatti carico del problema da tempo, a tempi abbastanza recenti, cioè questa consapevolezza non è maturata da quando avrebbe dovuto maturare. C'è stato per tanto tempo un atteggiamento di rimozione del problema, cioè di ghettizzazione del disabile e quindi tutto quello che si fa non è mai abbastanza, cioè siamo partiti in ritardo, ci muoviamo dovendo superare dei ritardi in una situazione di complessità. Però quello che volevo dire è che il tema è sul tavolo, è presente, esiste un assessorato seguito dall'avvocato Elena Fiorini che abbiamo chiamato legalità e diritti che si fa carico anche di questi problemi, così come dell'assessorato ai servizi sociali. Poi c'è sempre il solito problema delle risorse, ma non deve essere un alibi, c'è proprio una questione culturale complessiva che deve essere considerata. Esatto, poi c'è anche un problema di scelte. E le sollecitazioni, le sollecitazioni della consulta di coloro che sono disabili o che hanno dei disabili in famiglia devono arrivare costantemente all'amministrazione. Bene, noi in ogni caso, caro Amedeo, ci faremo anche... Questo era un richiamo a una visione d'insieme, quello della Convenzione. Sì, infatti, non era un caso specifico. Non sollevavo un caso specifico, ma un tema di carattere generale che è assolutamente importante. Andiamo avanti, Maura Grosso Cambiaso. Vorrei segnalare lo scempio avvenuto in questi giorni nella Villa Dufour di Cornigliano, sede dell'asilo omonimo e della scuola elementare Sbarbaro. Sotto gli occhi impotenti di genitori e residenti sono stati abbattuti inspiegabilmente numerosi alberi ultradecennali della Villa, trasformando uno dei pochi ritrovi di mamme e bambini in un sito desolante e degno del Bronx. E' questa la vivibilità cittadina che hanno in mente i nostri politici, che autorizza queste azioni scellerate. Quindi parliamo di Villa Dufour di Cornigliano. Ecco, allora, la lettera citta un episodio reale, quello dell'abbattimento di tre alberi in particolare. Mi sono fatto mandare la documentazione dagli uffici, due Quercus Ilex e un Pinus. Cioè due lecci e due Pinus, tradotti. E la motivazione è che in un caso due alberi risultavano malati e nell'altro caso un albero impediva degli interventi previsti di sistemazione. Naturalmente voglio tranquillizzare l'ascoltatrice che denuncia, noi non intendiamo abbattere gli alberi. In questo caso c'erano delle motivazioni specifiche ed è previsto che in sostituzione dei tre alberi abbattuti siano sistemati altri quattro nuovi alberi sani che abbiano un'altezza non inferiore ai tre metri. Quattro, per la verità cinque, eccomi, leggo con più attenzione la nota, quattro Cipressus sempervirens e un Pinus pinea. Quindi alberi che sostituiscano quelli che per due tagliati perché malati e uno perché impediva un certo tipo di lavori saranno sostituiti nello stesso giardino da altri quattro alberi di altezza adeguata a creare zone tra degli alberi di ventimenti. Comunque il fatto è che gli alberi vanno difesi. Ecco, in questo caso gli uffici hanno risposto... Anche che gli alberi in città non è che possano stare molto bene, vanno spesso sostituiti anche con tipologie di piante più resistenti allo smog. Comunque anche qua invito i cittadini a denunciare agli uffici qualunque tipo di abbattimento di alberi loro trovino. Nel senso che poi sarà nostra cura motivare il fatto, ma l'attenzione alla difesa dei nostri alberi deve essere costante. In questo caso c'erano dei motivi a giudizio degli uffici e si è deciso che comunque saranno sistemati altri alberi nel giardino. Anche perché molto spesso sembrano degli alberi a noi non esperti, sembrano alberi sani, normali, eccetera. Poi in realtà all'interno del tronco sono completamente svuotati, quindi diventano... Erano le cose che segnalavo, adesso le ho risparmiate ai telespettatori, ma nella notte tecnica si parlava di carie, tra virgolette... Allora, Tiziana Vitale, signor sindaco, abito in Oregina e precisamente in via Casaccia. 13 mesi fa, come oggi la nostra città ha avuto a che fare con l'alluvione in seguito a questo tragico evento straordinario, nel mio quartiere abbiamo un disagio che sembra non finire mai. In seguito ad una frana è stato aperto un cantiere per la messa in sicurezza della zona che coinvolge il rio Sant'Uvo, esattamente tra via Casaccia e la sottostante via Paleocapa. Esistevano delle scalette che la gente per lo più anziana del quartiere utilizzava molto per accedere per alto all'unico supermercato della nostra zona, ormai sempre più un quartiere dormitorio. La mia domanda è questa, quando secondo lei avranno intenzioni di finire i lavori? Se la ditta in questione dovesse erigere un palazzo ci metterebbero decenni, grazie, spero di essere stata chiara ed esaustiva. Il rio Sant'Uvo è uno dei tantissimi rivi che passano sotto la nostra città e che creano problemi. Esattamente, questa domanda solleva la questione che lei diceva, uno dei tanti rivi che passano sotto la nostra città. Abbiamo rilevato con l'alluvione 2011 dei problemi e allora ci siamo posti la questione di intervenire. Come? Intanto scoprire esattamente oggi quello che è il percorso del rivo, cosa tutt'altro che semplice dopo che è stato coperto dalle strade e dai caseggiati. Le carte che avevamo di genovacque, che sono servite per una prima ricognizione, si sono rivelate non errate. Quindi noi siamo dovuti andare alla ricerca del rivo che sta a 20 metri di profondità. A 20 metri di profondità. Quindi ormai la profondità alla quale corrono le acque è di 20 metri. Dopodiché si è rilevato che il percorso dell'acqua era ostruito in più punti e quindi l'intervento è diventato molto più complesso di quello che si immaginava all'inizio quando è stato avviato per fare un lavoro fatto bene, che serva. E il costo che all'inizio era stato previsto, come dire, un piccolo intervento localizzato da un importo comunque di 50 mila euro, il costo per un intervento più serio, complessivo, è diventato di 500 mila euro. 10 mila euro. Quindi perché abbiamo capito di dover fare molto di più in condizioni molto più difficili del previsto. Dovrebbe essere realizzato, qua gli uffici prudentemente dicono, si pensava entro febbraio, va fatto bene e va fatto al più presto. Lavorare su un rio di 20 metri di profondità è pazzesco. Così profondo ha creato non pochi problemi. Quindi un intervento che poteva essere circoscritto, ma che in realtà è più complicato, ma va fatto, va fatto, per risolvere uno dei tanti problemi della città per quanto riguarda i rivi. Io direi che forse è meglio fermarci qua, perché c'è una lettera che probabilmente merita un pochino di più. Quindi fermiamoci un attimo e poi seconda parte della nostra chiacchierata col sindaco Marco Dori. Grazie.